Musica Ah hi people of youtube Welcome back to a new episode of Saint Row 4 A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il salvataggio di Kinsey E il suo nuovo potenziamento Oggi invece troveremo i pezzi della chiave Il signore delle chiavi Giustamente Ottimo Va bene Va bene Andiamo a prendere queste chiavi allora Oh eccoli Va bene tesoro ci pensiamo noi alla chiave Non ci sono nemici Eccoli la Facciamo Oggi vi spacco tutti a morte aeree Ti giuro che è il mio obiettivo di oggi L'obiettivo di oggi è fare più morti aeree possibili Intanto iniziamo a muoverci Che almeno quando troviamo i pezzi della chiave Possiamo agire Possiamo agire Grazie Ok Allora ci penso io Ma non hai bisogno Sai volare O meglio penso Penso Ovviamente Aspetta Ecco fatto Dov'è? Vabbè Vabbè In realtà che Usare la cosa qua esplosiva Non è neanche così utile Non è utile perché Molto spesso i nemici muoiono più per il colpo Esplosivo Più che per l'effettivo colpo Però per l'adesso sono morti tutti quindi Direi che l'obiettivo l'abbiamo portato a casa Eccoci qua Questi sono i robot Li ho uccisi a colpi di Di pugni per terra Vai al molo Oh Levati Arrivo Arrivo Mi fido di te Questa volta Non ti stiamo abbandonando Questa volta sei con noi Johnny Ho ancora 50 secondi E ce la farò tranquillamente A meno che Non mi tolgano i superpoteri Allora lì Sì sarebbe un problema Aspetta 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 Facciamo così Hey Andiamo là Porca miseria Dov'è? Beccati questo Dove sono? Perché Non si è Non si è Dove sono? Dov'è? 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 Ecco l'è uno Ed ecco l'altro Questi robottini Sono facili da uccidere Una volta che li fai volare via Ciao Dai Addio Che soddisfazione Ucciderli così Quest'arma in realtà Non è sicuramente ottima Però il suo lavoro lo fa Qualche nemico da uccidere facile? Andrei direttamente là allora E a questo Ci penso io Uno e due Che è successo? Perché mi ha sbalzato? Aspetta 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 Beccati questo Ucciso Qualcuno qua sopra? No? Strano Madonna mia Sta spada è incredibile A livello di danni Forse anche fin troppo Volevo usare un'arma Per tirare giù qualcuno Il fuoco Ho dovuto mettere il fuoco Un'altra 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 Sto arrivando, amico mio! Tieni duro! Johnny! Eccomi qua! Aspetta, aspetta, aspetta! Addio! No, tranquilla, mi fido! Non è un weekend! Spondo la faccia a tutti! Dove sei? Vieni qua! Uno, due e tre! Allora, salgo in questa cosa! Allora, brava ragazza! Ma gli ha parcheggiato sopra! Sali? Ecco fatto! Ok, io posso sparare Però non serve Abbiamo la tecnologia Completata Mi sa che siamo vicini alla fine, eh? Siamo lì, lì Cavolo, abbiamo già finito! No! Quindi, signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.